Una sera giunse notizia che mancava un uomo dalla compagnia e si trattava di Tyrkir, l'uomo del sud. Ciò parve una gran disgrazia a Leifrir dal momento che Tyrkir era stato per lungo tempo con Leifrir e suo padre e voleva molto bene a Leifrir nella sua infanzia. Leifrir rimproverò molto i suoi compagni e si preparò a partire alla ricerca di Tyrkir con dodici uomini al seguito, ma appena si furono di un poco allontanati dal dormitorio, ecco che Tyrkir andò loro incontro e fu caldamente accolto. Leifrir si rese presto conto che il suo amico di infanzia era piuttosto di buon umore. Tyrkir aveva la fronte sporgente, gli occhi che vacillavano e il volto piccolo. Non era molto alto ed era di aspetto misero, ma era un maestro in ogni tipo di arti manuali. Leifrir gli disse, perché hai fatto così tardi, patrigno, e come mai ti sei separato dagli altri? E per un bel pezzo Tyrkir parlò solo in tedesco, gettando gli occhi a destra e a manca e facendo smorfia, così che non capirono che cosa stesse dicendo. Parlò finalmente in Norreno, passato del tempo. Non mi ero allontanato tanto, ma ho qualcosa di nuovo da raccontarvi. Ho trovato delle viti e dell'uva. Dici davvero, patrigno mio? disse Leifrir. Certo che dico davvero, rispose lui, visto che là dove son nato non mancano né le viti né l'uva. Dormirono tutta la notte e la mattina Leifrir parlò ai suoi uomini. Ora dobbiamo portare avanti due compiti. Un giorno raccoglieremo uva e taglieremo viti e l'altro abbatteremo alberi per il cargo della mia nave. Tutti furono d'accordo con questa decisione. Si dice che al ritorno la loro nave fosse stracarica di uva. Abbatterono legna per la nave e quando giunse la primavera prepararono la nave e salparono. Leifrir battezzò quella terra per i suoi prodotti e la chiamò Vinlandia. In seguito presero il largo e il vento gli fu favorevole, finché giunsero in vista della Groenlandia e dei suoi monti sotto i ghiacciai. Allora un uomo prese la parola e disse a Leifrir, perché guidi la nave così tanto sopravento? Leifrir rispose, sto attento a come governo la nave, ma piuttosto vedete qualcosa che valga la pena vedere? Risposero di no, nulla degno di nota era in vista. Non riesco a capire, aggiunse Leifrir, se quella è una nave o uno scoglio. Si misero tutti a osservare e stabilirono che doveva trattarsi di uno scoglio, ma lui vedeva più lontano di loro e notò come su quello scoglio ci fossero degli uomini. Voglio che seguiamo di più il vento, disse Leifrir, così potremo avvicinarli, semmai abbiano bisogno del nostro aiuto, nel cui caso dovremmo aiutarli. Ma se non si trattasse di uomini pacifici, il vantaggio sarebbe comunque tutto qui sotto di noi e non sotto di loro. Si avvicinarono dunque allo scoglio e ammainarono la vela, gettarono l'ancora e calarono una delle due piccole scialuppe che avevano con loro. Allora Tirker chiese chi avessero per capo ed egli rispose e disse di chiamarsi Thorir e di essere di stirpe Norrena. Come ti chiami tu, invece? E Leifrir gli disse il suo nome. Ma allora sei figlio di Eri che il rosso da pendio scosceso? E Leifrir rispose affermativamente. Ora vorrei, riprese Leifrir, chiedere a tutti voi di salire a bordo della mia nave, con i vostri valori, finché ci sarà spazio. Accettarono l'offerta e in seguito si recarono a fiordo a Eirik, con tutto quel carico, finché non giunsero a pendio scosceso, dove scaricarono la nave. In seguito Leifrir invitò Thorir a trascorrere l'inverno da lui, assieme a sua moglie Gudriert e ad altri tre uomini. E trovò una sestimazione sia per l'equipaggio di Thorir, sia per il proprio. Leifrir aveva salvato 15 uomini da quello scoglio, così che da allora fu chiamato Leifrir il Fortunato. Egli era ormai un uomo ricco e assai rispettato. Quell'inverno una malattia colpì la compagna di Thorir, che morì assieme a una gran parte dei suoi. Lo stesso inverno venne a mancare anche Eirik, il rosso. In seguito ci fu un gran parlare sul viaggio di Leifrir in Vinlandia, e Thorvald, suo fratello, sentiva che non avevano esplorato abbastanza quel territorio. Allora Leifrir disse a Thorvald, prendi la mia nave se vuoi, fratello, e vai in Vinlandia. Ma prima voglio passare dallo scoglio e raccogliere il legname che Thorir ci ha lasciato. E così fu fatto.